Fede, dice Saviano, rompe. Un blog di Rockendorm. Bibemon, dice, tutti i vomiti arruttati qui in bocca a Fede e Saviano, stars del video. A tavola. Divideteli con i commensali. Buon appetito, buonanotte, segni d'oro, domani è un altro giorno, il mattino ha il vomito in bocca. Non vi piace? E questo passa il valium mafie e sette riunite. E ricordano, dice, rifarsi agli atti depositati, bollati, timbrati, firmati, controfirmati, pagati. I processi nelle sedi competenti, i processi nelle sedi competenti competono anche agli umani, non solo agli subumani. Che carini, dice, fanno le leggi, le applicano a Google. E la Presidente dei Presidenti, chi è? Venga fuori o lo dichiaro? E la cittadino sovrano. La sacra infezione patfolia, il prossimo 4 maggio, compie sette anni. Una delle figlie, quella con il terrorista Gugliotta, compie un anno, il 5 di maggio. Una volta maggio era il mese delle rose, adesso il mese delle... riservato a fede e soviano. Inno d'Italia, bucumbra, fino a quando gli eroi si nutrono del sangue dei terroristi. E bisogna arrangiarsi, no, bucumbra, bucumbra, ce l'hanno con i bucumbra, fanno gli italiani bucumbra. Boh, e la fede, e la fede, usa la tv per problemi personali, non dà voce alle merdacce anonime. Lo dichiaro, dice, definitivamente colluso, licenziarlo, indietro gli stipendi, dice, avanti stipiti e bicipiti. Dice, non si capisce, dice, è assono un'alfabeta. Ma mica, dice, per colpa mia, è che la scuola del merito, dice, si merita una meta, quella che porta alla puntinità. Beh, roba, roba, con due b, roba, 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 percime come fede e soviano, gelmini e carfagni, amaroni e la russa, alfano e decorato, moratti e moiolo, o moioli, beh, sgarbi e frattini, e beh, sono loro, e sono loro il governo, se ce ne sono altri, ci dava altri, quelli che sono venuti in mente, insomma. Ai, 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 pubblicità, pubblicità, e cedesi, offerta, offertissima, d'inizio di fine stagione, beh, quello che è, offertissima, cedesi sei principi del foro, sei, Paola Selleri, Rossana Filacchione, Giorgio Marzocchi, grazie Cesaro Ophelia, Giorgio Marzocchi addirittura del Cassazione, Enrico Barilli, Antonio Ballerio, per un ranocchio tipo Chedinis, se non bastano, di principi, ne aggiungo altri, solo, dice, per risolvere i loro e i vostri problemi personali, se non ci si aiuta fra di noi, ma perché vi sfogate facendo video, vomitando commenti, avete i giornali, le tv, accorpare, risparmiare, partavomite, docche, che dice, che dice, un portavomite dice, certo, Ophio, meno sei, meno due, meno tre, e quello, 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 dice, grande figlia di puttana, dice, mi dia i cadaveri di quei figli di bagaccia, dei figli e stia muta, puttanona, beh, ehi, tornando a Fede, dice, ci sono fior di magistrati che, dice, ci sono fior di magistrati che, dice la Fede, ma non erano mica metastasi, bonde di talebboni, non più, e allora la criminalità organizzata, chi è? I colletti bianchi, questo, quell'altro, cose retocche rosse, non esistono, beh, e il Gugliotta? No, dico, allora la criminalità organizzata, chi è? Il Gugliotta? Io, dice, affini, se è così, ditelo chiaro, non fatelo dire alle merdacce anonime, un sistema, un sistema può essere, dice, più o meno bello, più o meno giusto, ci si adatta, si vive, questi sono tutto e il contrario di tutto, no, ma, beh, ma, impossibile vivere, impossibile accettarli, ripudiarli, E ancora uno portavome del duc, e ancora il squerro, quella è una troia di merda, una puttana infame, pazza e mezza morta, una donna merdosa che ha sempre usato figli e culo per arrivare ai propri scopi, scopare, pare che la puttanazza, a differenza di quei due imbecilli di figli, conosca bene la musica e le note, si, la do troia di merda, ma che cazzo ce l'ha, beh, posso volare un egalario, come si chiama la moglie di Napolitano, è il nome di una macchina, la Mercedes, beh, quello che è, un paese, dice come il nostro, è contro la criminalità organizzata, dice Fede, ma chi è quel Silvio che ha sempre in bocca, beh, con i suoi problemi personali, ci fa una testa così e per di più lo dobbiamo pagare, è mica poco, milioni, l'Italia, l'Italia è per caso la famosa America sinonimo di Eden, all'inferno in paradiso, ma andateci, fuori dalle palle, a me, dice, ai presenti, dice, a me, ai presenti, dice, le merdacce possono dire tutto quello che vogliono, è gratis, i vomiti rovesciati, sulle persone assenti, che non si possono difendersi, beh, un milione a vomito, l'Italia, dice, dovrà mettersi in vendita, con il ricavato pagherà appena appena la prima reta, tempo di icci, di tosse, pensiamo a sfamare, la trovatella, minotauro, letrizia, moratti, tutti, tutti i ladri, fatanti, rubano, moggiano, avvomitano, i ladri sono gli altri, quelli a cui rubano sono i ladri, e io pensiero va, cos'è, la poesia, ah, è sera, ed è subito sera, e il pensiero va, a quella poveretto dell'avario Veronica, eh, dice, ma come farà, a vivere, con 300.000 miserabili euretti al mese? Boh, problemi personali. Un portavometto che dice, a quella, a quella, come fa a vivere succhiando 40 cazzi al giorno, mantenendo i funerali di quei due buonordi figli di io, di troi dei figli, ma si la tua grande intentitrice di musica, la puttanazza. Boh, beh, forse ci raccola l'aria, o che cazzo ne so, come si chiama lì quella di Napolitano, ma Napolitano è il presidente? Boh, boh, esci sempre con i moniti, o è un papa? Chi è il papa? Ah, sono tanti papi, ma, eh, e dice, le cose stanno cambiando, cari subumani, l'umano piano piano capisce che chiudersi in se stesso, dice, ma vuol dire chiudere nella bara l'intera umanità, e anche se stessi naturalmente, no, se è l'intera, è solo questione di prendere coscienza, coraggio, un problema psicologico, qui sì, individualmente e senza correre dietro alle sirene, ai capi popolo, agli interessati, per fini biechi, eccetera, eccetera. La storia è lì, ed è maestra. Oltre l'apprendimento individuale, il nulla è ancora un portavolto.